La decisione di non affrontare la discussione di un argomento così importante è di una gravità tale che non trova precedente nella storia dell'Assemblea abruzzese. Ritengo sia stata una scelta inopportuna da parte del Presidente del Consiglio regionale. Non usa mezzi i termini il sindaco di Sumona, Peppino Ranaglia, l'indomani della salute dell'Assemblea regionale all'emiciclo, dove non è stato possibile discutere la risoluzione urgente sul punto nascita dell'ospedale Peligno. Resta davvero amareggiato il primo cittadino che si dichiara pronto a una manifestazione pubblica. Sicuramente ci sarà un'altra riunione con i sindaci, annuncia Ranalli. Siamo pronti a rappresentare le tante richieste del centro Abruzzo. Un'ulteriore riunione con tutti i sindaci che saranno presenti domani mattina, con le forze sindacali, con le associazioni, per una grande manifestazione pubblica. Ieri abbiamo consegnato il lavoro che avevamo fatto nell'Assemblea dei sindaci ai consiglieri regionali, dimostrando che si crea un grosso vuoto all'interno del centro Abruzzo, che lascia scoperto un territorio vasto, una popolazione vasta, di un servizio importante come quello del punto nascita. Il sindaco di Sulmona fa appello intanto alla città per domani alle 7.30, quando assieme a sindaci e sindacati sarà protagonista della trasmissione Buongiorno Regione, in onda su Rai 3. Il mio appello è alla città per domani mattina, nel momento in cui la Rai dedicherà Buongiorno Regione all'ospedale di Sulmona a essere presenti sul presidio del punto nascita per far valere ancora di più e far conoscere alla Regione quelle che sono le motivazioni per le quali noi chiediamo la deroga alla chiusura del punto. Non indetreggeremo nemmeno di un millimetro, conclude il primo cittadino. Proseguiamo la battaglia perché siamo convinti di potercela fare. Grazie a tutti.